... Mercoledì 30 di luglio, buonasera e ben trovati a tutti all'edizione pomeridiana della nostra rassegna stampa. Come sempre andremo a vedere velocemente quelli che erano i titoli di apertura e mattinata sui maggiori quotidiani nazionali per poi passare agli approfondimenti e agli aggiornamenti di queste ultime ore e poi tutta la cronaca locale. Iniziamo quindi dalla Repubblica dove in primo piano c'era questa mattina la questione politica interna con il fallimento della trattativa e lo scontro al Senato, le preferenze con Renzi che apre, il no di sinistra ecologia e libertà alla mediazione, il partito democratico mai più alleati e poi il premier attaccati alle poltrone, questo è il suo virgolettato e Grillo che incita ad andare via dall'aula e ancora diverse le analisi con le interviste che riguardano proprio come vi dicevo la questione politica interna e il testo sulle riforme. Tra decisione e persuasione il commento di Claudio Tito e poi vendola non cedo sarebbe la resa, non irrida la minoranza riferito al premier Matteo Renzi. Intanto il ministro Boschi impari a non rispondere a monosillabi, noi poniamo delle domande. Questa è la posizione di Nichi Vendola. In fotonotizia troviamo l'altro caso di giornata e degli ultimi giorni, delle ultime ore, una mail degli arabi a Del Torchio con l'ultimatum all'Italia, solo 48 ore per chiudere entro la mezzanotte di domani, infatti si dovrà aggiungere a quello che è il tanto atteso accordo. Il salvataggio di Alitalia rischia di naufragare sul terreno scivolosissimo del menage a Truà, lo schema per cui la nuova compagnia nata dalle nozze con Etihad sarà controllata da una società a tre in cui investiranno separatamente tra di loro i patrioti della CAI, le poste italiane in Proprio e gli emiri del Golfo. Ancora poche ore per raggiungere ad un accordo definitivo. Pioggia di missili, siamo a Gaza, a Gaza che si trova al buio, Gaza dove la situazione non accenna a migliorare. In un solo giorno sono state ben 120 le vittime e il no di Hamas. Alla tregua di Abu Mazen, quindi si continua nella stessa direzione. Il giorno in cui le speranze di una tregua si stavano facendo più solide, è diventato il giorno più sanguinoso di questa guerra di Gaza. 120 morti, 500 feriti in un bombardamento iniziato nella notte di martedì, che non risparmia niente e nessuno. Ancora di nuovo razzi verso Israele. Ed andando avanti sulla prima pagina della Repubblica, nel sommario in taglio basso, scandalo in Sicilia per i dirigenti della regione, si va in pensione a 53 anni. C'è anche Tavecchio, il caso di ieri e dei giorni scorsi, anche la UEFA contro di lui e Squinzi si sfila dall'accordata. In ultimo Wikipedia bandisce i deputati degli Stati Uniti, scrivono sul sito troppe bufale. Lasciamo la Repubblica, vediamo i titoli anche del Corriere della Sera e Caos al Senato sulle riforme. Anche qui l'apertura dedicata a tutta la politica interna, salta la mediazione tra urla e scontri. Renzi no ai ricati. E poi c'è anche la rottura con Sel, Grillo che minaccia l'Aventino. La maggioranza tiene sul voto segreto. In primo piano c'è il sollievo del Premier, sono già stati cancellati i 1500 emendamenti. E poi Verdini tratta, ma Berlusconi tiene le mani libere. E in taglio centrale una foto che ritrae quelle che sono le conseguenze del maltempo che ha colpito prevalentemente il nord. C'è Varese sott'acqua, danni anche in centro Italia. L'estate che non c'è, il meteo che cambia. Si parla proprio in questo articolo delle previsioni meteo che non sono poi così affidabili e del provvedimento di conseguenza di assumere delle regole differenti per garantire maggiore certezza in queste previsioni. Intanto il giorno più duro nella striscia di Gaza sotto le bombe, lo abbiamo visto anche sulla prima pagina della Repubblica, più di 100 morti in 24 ore. In taglio basso c'è il caso del PM Esposito, va sospeso due mesi, le accuse sono rivolte al figlio del giudice che condannò Berlusconi. Inoltre c'è la mappa di tutti i comuni per i diritti civili. Fai da te, senza una legge, norme diverse da città a città. Per la presenza di un vuoto normativo per certi aspetti in Italia, ecco che si viene a creare un panorama molto disomogeneo. C'è anche qui l'allarma Etihad, soltanto 48 ore per il salvataggio di Alitalia con la trattativa che riguarda proprio questa operazione. Sul messaggero, anche qui, apertura politica, caos, riforme, si vota a oltranza, alta tensione al Senato, fallisce la mediazione, e sella sulle barricate il Partito Democratico mai più alleati. Renzi pensano solo a difendere la poltrona, il patto con Forza Italia regge allo scrutinio segreto. E poi nei box due i retroscena che vengono presentati dal messaggero, eccoli qui, ma nella notte riparte la trattativa sull'Italicum con Matteo Renzi, che non l'ha presa bene dopo aver aperto la mediazione e non si aspettava di ritrovarsi di nuovo in Pantanato. E poi Berlusconi e Matteo Neuai speriamo che regga. Telefonate continue a Denis Verdini, a Maria Rosaria Rossi, a Paolo Romani, filo diretto tra Villa San Martino e Palazzo Madama. Altra foto, questa volta sul messaggero, che ritrae un'immagine degli addetti ai lavori con tute apposite. Si parla dell'allerta Ebola, che arriva anche negli Stati Uniti, gli inglesi, attenti ai sintomi. Piegato in due da dolori addominali, mal di testa e febbre alta, isolato in un letto dell'ospedale della capitale della Liberia, il medico americano Kent Brantley ha trovato la forza di scrivere un messaggio elettronico. Sto pregando ardentemente che Dio mi faccia sopravvivere il virus letale a punto l'Ebola. Nel 2014 un record di morti, sono ben 673. Redditometro si volta pagina, cambia la lotta all'evasione, il piano Orlandi, dichiarazioni precompilate e guerra alle frodi. Questo quanto previsto, cambia proprio la strategia della lotta all'evasione. Da una parte l'Agenzia delle Entrate prepara l'operazione Fisco Amico con l'invio delle dichiarazioni dei redditi precompilate. Dall'altra invece si annuncia una lotta serrata alle frodi e alle false fatturazioni. In questo contesto perderà sempre più peso l'utilizzo del redditometro, l'accertamento presunto dei redditi partendo dalle spese. Sempre più importanza invece avranno le banche dati e il loro incrocio. Ieri in Senato la prima uscita ufficiale del nuovo direttore dell'Agenzia, Rossella Orlandi. Anche qui ritroviamo ovviamente il caso Alitalia che ha ricevuto l'ultimatum da ITAD, chiudere la trattativa entro domani. E poi gli ispettori del Fisco, tangenti a Roma sulle finte multe, un giro che procurava diversi introiti. Lo chiamavano il metodo Costantino, un sistema tutto personale di calcolo che consentiva di contestare ai ristoratori i ricavi non dichiarati e pretendere il pagamento di cifre esorbitanti e non dovute. Poi il verbale poteva essere stoppato pagando 7.000 euro per ogni 100.000 di limatura. Ieri sono finite manette in due, entrambi i ispettori dell'Agenzia delle Entrate, ma l'episodio contestato è soltanto la punta di un iceberg. Dal messaggero andiamo sulla stampa, anche qui per vedere i titoli. Ritroviamo ancora Renzi con il braccio di ferro sul Senato e poi Gaza, la pioggia di bombe, oltre 100 civili morti nel giorno più nero, colpita la centrale elettrica, la striscia è completamente al buio ed ancora all'Italia a rischio fallimento con Etihad, più soldi o salta tutto. La lettera di Abu Dhabi, 48 ore per chiudere l'accordo. Fotonotizia dedicata ad un alpinista americano che ha portato i figli in quota e li ha filmati mentre erano in caduta. Il sindaco lo ha denunciato parlando di un'idiozia. L'alpinista con i figli di 9 e 11 anni, questo proprio un momento durante la scalata. Ha presentato poi in una televisione americana il video della tragedia sfiorata, oggetto di vanità, lo è diventato il re delle Alpi, il Monte Bianco. Ogni possibile desiderio di fama, avventura e notorietà si infila nei suoi canaloni rocciosi o lungo i suoi sterminati ghiacciai ed è così che un americano padre vanaglorioso lega a sé i suoi due figli di 9 e 11 anni appunto. C'è anche il ministro Madia sulla prima pagina della stampa, c'è chi ruba il posto ai giovani con un virgolettato che le appartiene. C'è stata una vera rivolta sul pensionamento obbligatorio, ma abbiamo tenuto duro. E poi lo Stato pagherà la fecondazione eterologa. Le linee guida della Lorenzino, un miliardo all'anno, a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Sarà un decreto snello, quello sulla fecondazione eterologa, che il ministro della Salute Beatrice Lorenzin presenterà in Consiglio dei Ministri prima della pausa estiva per poter partire già da settembre. C'è già una prima certezza, l'eterologa rientrerà nei livelli essenziali di assistenza e sarà a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Questo quanto sembra comunque certo riguardo al progetto e alla proposta che presenterà il ministro Lorenzin. La coppia che denunciò il caso Stiamo con la mamma biologica, si parla del caso degli embrioni scambiati, e poi a pronunciarsi anche il filosofo Severino. La tecnica ha preso il sopravvento sull'etica, sempre riferimento allo scambio degli embrioni. Tutti titoli anche dal tempo prima di fermarci un istante per una breve pausa. Metro C, tranquilli, non ci salirete mai. L'inchiesta del tempo, il viaggio shock dei cantieri infiniti, da sette anni Roma è paralizzata, sarà così almeno fino al 2024. Era l'estate del 2000 quando il sindaco Rutelli indicò la Uiola, che separava via dei fori imperiali dal Colosseo, e disse che qui passerà la nuova metropolitana di Roma. Sono passati 14 anni e mezzo, sette dall'inizio dei lavori, e la metro C è ancora un cantiere, il più costoso del mondo, che ha messo in ginocchio commercianti e imprese. Quindi sembrano non riuscire a vedere la luce questi lavori per la linea C della metropolitana capitolina. Come vi dicevo, ci fermiamo un attimo per una breve pausa, al ritorno gli altri titoli dal tempo, e poi passiamo a tutti gli approfondimenti sul web. A tra poco. Grazie. Grazie.